Mai non la condanno, perché fa parte della natura dell'hockey, essendo uno sport di contatto dove si può caricare l'avversario in determinate situazioni, è importante che ci sia questo, in inglese si chiama il payback, perché si può anche fare male all'avversario, quindi tu devi ben sapere che se vai oltre un determinato limite, che non deve essere per forza determinato dalle regole, ma facciamo tutti lo stesso mestiere, quindi bisogna avere un determinato rispetto anche per il proprio avversario, quindi secondo me...